Una vittoria schiacciante quella di Pierluigi Biondi alle amministrative dell'Aquila. Il sindaco uscente, che ha ottenuto il 54,39% delle preferenze, ha vinto già al primo turno e governerà il capoluogo di regione per ulteriori 5 anni. Gli aquilani hanno deciso di continuare a garantirci quell'apertura di credito che ci avevano fatto 5 anni fa. Siamo molto contenti, siamo molto onorati e siamo anche molto responsabilizzati per tutto ciò che dovremo fare, perché l'Aquila è una città complessa, l'Aquila è una comunità che ha tante esigenze, giustamente esigente e noi dobbiamo essere all'altezza di questo compito. Una vittoria attrainata dalla coalizione, frutto della compattezza del centrodestra, di cui i fratelli d'Italia nettamente capofila. La coalizione, che oltre ai meloniani comprende Lega, Forza Italia e tre liste civiche, è stata scelta dal 58,61% di chi si è recato alle urne. Ieri al fianco del riconfermato primo cittadino, un festante marsilio. Le polemiche stanno a zero, chi ha voluto fare una campagna elettorale di basso livello, con accuse senza senso, si ritrova con le pive nel sacco. Questa è la risposta vera che ci si aspettava dagli aquilani ed è arrivata come previsto. Pierluigi se lo è meritato, è il sindaco giusto per questa città, per il capoluogo, un asset fondamentale non solo per l'Aquila, ma per l'intera regione Abruzzo. Flop senza scusanti del centrosinistra, un centrosinistra spaccato a metà. Americo di Benedetto ha ottenuto il 23,78% delle preferenze, mentre Stefania Pezzopane si è fermata al 20,62%. Ma nemmeno sommando queste due percentuali si sarebbe superato il risultato di Biondi. Le due coalizioni di centrosinistra hanno ottenuto rispettivamente il 16,96% e il 23,57% delle preferenze. Salta all'occhio il tracollo dei Cinque Stelle, che non sono riusciti a raggiungere l'1% dei voti. Simona Volpe, infine, è stata scelta dal 2,24%, la sua lista dallo 0,87%. A recarsi alle urne sono stati poco più di tre aquilani su cinque.